Ok raga, ragazzi, ragazzi, allora, sto facendo il suo video molto veloce, però, ragazzi siamo in quattro come potete vedere Lo sto dicendo a voi, sto dicendo al video, oddio raga, raga, stai in questa casa, stai in questa casa Ci penso io, ci penso io Se non mi sbaglio, andiamo tutti quanti, no, tutti quanti atto a lui Non ci sta, non ci sta, non ci sta, non ci sta Oh, fucile di sondri d'antico epico No, devo uccidere Oh, ma sei scemo Lo prendo io, lo prendo io Ti faccio fare la chile se lo prendi, Luca Cioè, se lo prendo io ti faccio fare la chile Però ti dobbiamo aiutare Ah, Luca Ragazzi, spacchiamolo, spacchiamo l'airdrop Spaccatelo È mio Non ti faccio fare la chile, Luca Tutto a me, tutto a me, tutto a me, pure lancia l'azzi Oh, Luca Tieni Tieni Tieni, lo scar Oh, ti do un po' di razzi Vai, otto razzi No, no, ce li ho già, ce li ho pure abbastanza Non me li fa prendere più Ragà, ragà, venite Ragà, venite del trozzo Oh, comunque non si Oh, no, no Ragazzi, ragazzi È la seconda Ragazzi, è la seconda di fila No